Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei due sul server 2 con una roba che nessuno si sarebbe mai aspettato No, no, nemmeno noi Perché dobbiamo ringraziare gli sviluppatori del gioco che ci hanno dato un account speciale Per redimerci Ci hanno dato per testare il gioco con tutti i carri sbloccati Tutti! Cioè pure quelli veloci, quindi che vanno a 40 l'ora Adesso! Abbiamo pure 30.000 gold, non ve la prendete voi amanti di World of Tanks Perché questo è un account speciale che ci serve a noi per provare il gioco Per la stampa Perché già ne ho detto, abbiamo migliorato un sacco di cose Vi diamo anche un codice che ci hanno dato gli sviluppatori che se volete utilizzare Vi da un carro in più, 500 gold e una settimana di premium Vedi già cominciamo a ragionare, però ne vogliamo ancora più incazzoso Ma il bello è che potremmo metterci tipo, questi sono tipo da ultra sgravi Con questi rompiamo tanti Questi costano tipo un miliardo e mezzo Ma insomma, l'hanno migliorato i carri, non sono troppo fighi Guarda che l'illuminazione l'hanno migliorato secondo me Ma hanno migliorato pure i modelli, guarda quanti cazzo di dettagli Ma sono meglio dei carri di Battlefield Allora facciamo così Fermi, battaglia di squadra Mamma mia la bruttezza Già questa è più Eh, non sappiamo dove andiamo, che mimetica Questo è proprio brutto, questo è mimetica asilo Ah questo? Bello Perché ti compra sta monnezza? Eh, guarda che bello Ma è uno schifo, compra quella da neve Quella da neve è bellissimo Ma quella da neve e poi ti andiamo a giocare in apica Tanto con colpo nostro muoiono tutti Ma due carri alla volta muoiono Dai, questo qua, questo è tipo zebrato Tanto fa schifo, sembra un nemico di SpongeBob Vai, forza Si parte, si parte Tutto a manetta, la grafica è tutto per farvelo godere appieno Guarda che bello, guarda Mi veritizzo benissimo Sei una merda, fai schifo con questi colori Guarda tutti i piccoli carretti, guarda lì Li squacciamo, li pieghiamo al nostro volere È bello che noi siamo gli unici con una texture Completamente fuori luogo Ridicolissima Possiamo girarlo pochissimo il cannone anteriore Perché? Guarda Ha un gioco molto stretto Però secondo me fa un male porco Quindi... Il problema è arrivarci dal nemico Abbiamo distrutto un masso Il problema è veramente arrivarci perché andiamo lenti Puntalo, puntalo, puntalo che uscirà Puntalo, puntalo che sta per uscire Troppo lontano No, 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 noi siamo pesanti Ho capito, ma lui è lontano Puntalo Non c'è nessuna Orco 2 Vedi di quant'è l'alzo della situazione Per il momento non mi interessa l'alzo Mi interessa arrivare a portata Potrebbe sembrare una banalità ma non la è Dovremmo fermarci perché più andiamo avanti più siamo scoperti Ma magari... È uscito, è uscito Vedi che ci ha già sparato Aspetta, aspetta No a sinistra, a sinistra Guarda, guarda che fa... Falcone, falconiglio Rallella, rallella BOMMA Le abbiamo tolto 70... No, 65 in una botta Cazzo ci mette tantissimo a ricaricare Allontanati, ci mette tantissimo a ricaricare Vedi la barretta rossa Sta caricando Non ci butteranno giù tanto facilmente Dai, 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 dai Che siamo carichi, dai, dai Occhio, aspetta, aspetta, aspetta Va! Eh no, ci vuole tanto tempo per arrivare qui Orca Non l'abbiamo preso, spostati Stiamo a metà, stiamo a metà Torna, torna indietro, torna indietro Ho preso la braccia indistruttibile, eh Dai, a faccio È lento Cammina È lentissimo Cammina Dai Sta venendo dalle nostre parti 49, ad oltre 49 Vai, torna indietro 49 di scarpe Io lo ho Bravo Ti sei messo proprio in mezzo al niente Guarda Non va Non va Non funziona più Sei uno scarso Guarda Omo ci ficca La canna nel culo, va Ecco Cioè Cioè Mai un colpo ci manda Abbiamo preso un carro che non è buono Amico mio Cioè Abbiamo preso il carro iper pesante che toglie uno sfracello Esca, torna all'officina, va Mo' gioco io un attimo perché tu a sto gioco non sei proprio capace Ma questo è il carro dei carri però Gesù bambino Vai, vabbè Entra con questo Dai, fagli male Mi devo mimetizzare prima Sì Porca io mamma Guarda quanto tempo ci metta a ricarica un cazzo di proiettile Sta ancora a ricarica No, perché lo sherman 93 m7 ci metteva un sacco di tempo a ricaricare È tutto realistico Ho fatto una cosa fatta bene È realistica Cioè la nitro Cioè non è come quell'altro Questa è d'artiglieria pesante da lontano Ma la ha Lo alza Hai visto? Si si lo alzo Si sente Va in erezione il cannone Capito? Guarda Io per esempio mo Tanto che arrivo lì Che hanno finito la battaglia Io però mo con calma mi posiziono L'avrò preso secondo te Enrico È scomparso È scomparso È riapparso Ma hai sparato? Ho sparato Non so dove Sinceramente dove sia proprio andato Oh Forse ho preso un albero Mi dispiace per te caro amico Mi sta facendo male la pancia Oh c'ho un'idea Ah lo vedi che io posso tipo Senti scusa Scusa Mi hanno fatto secchi un colpo solo Io ci ho messo un quarto d'ora Non mi stesse di male Allora Ragazzi Eccoci qua Ho preso il carro Oh però la mira con shift Vedi se questa è la mira normale Non mi fa mirare È un problema Questo non mira proprio? Questo non mira Ognuno ha il suo problema qua Non è che ogni carro ha le sue caratteristiche Ogni carro ha i suoi problemi Questo è il Ok possiamo ripararci Però pure con gli altri Poi abbiamo il quattro Che quando segna nazionale Vai Consumabile Oh si abbattono gli alberi mo Si abbattono con un framerate diverso da quello del gioco Hai notato? Porca puttana è lento pure questo Ma come fai a prendere solo i carri lenti? Ho messo pure le sospensioni nuove Vabbè comunque dai Non è lento sfatto come quello di prima Ma dobbiamo fare secco questi qua di colori diversi No questo è bello dai E' una scheggia pure Guarda quanto gira bene con le sospensioni nuove Vabbè è un carro normale Però occhio perché se ti prendono un paio di volte sei andato eh Penso pure mezza qui credo Però vediamo quanto quando ci metta ricarica Ma vedi che poi mirà Si si Picchia picchia quello No no Ah si è visibile Vai Mamma mia Hai segato Mamma mia Mamma mia Grandi emozioni Grandi emozioni Vai Guarda io ho combattuto in città la mia prima partita Con un carretto piccolo come questo Ho fatto i morti Ma che te ne frega vai in acqua Ragazzi se vado giù Ma non vai giù Quello che allegge è il carro normale Ho fatto apposta Guarda che bello Fermati fermati Per questo non ha visto secondo me Guarda già ricaricato Bello Guarda come ricarica in fretta Questo è più divertente Vai Ragazzi grandi numeri Guarda che bello l'effetto dell'acqua Fermati vai vedere se fa l'onda Si Ah ragazzi guarda che è migliorato Prima non mi faceva stare No porco giù L'hanno veramente attizzato graficamente parlando Attenzione Preso Mamma mia Mamma mia Guarda che belle le onde Siamo secondi Oh oh Merda 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 Ma dobbiamo restituirlo sta account Eh mi sa proprio di sì Non lo voglio restituire Mighi ma siamo uno squadrone no Io sono secondo E' una faccia di merda Ecco il cavolo che si ha fatto Andiamo per Ah perché non era un deathmatch Bisognava catturare la loro base Base catturata Bello questo funziona bene Dovremmo andare a rivedere la recensione che facemmo al tempo Ma io non mi ricordo questa grafica così eccezionale Prenderò questo sentiero davanti a me Si appena esce qua Rovinerò la fattoria di quest'uomo Tutta gliela rompo la fattoria Prima non si poteva rompere niente Di spacco pure il calè No i muretti non si rompevano prima Eh prima un migliaio di mezzo è passato Ma escono da la io già lo so che escono 6-7 carri Ma magari No se ne vanno le case Beh ragazzi non è lo stesso gioco che abbiamo giocato 3 anni fa Questo è poco ma sicuro Scusami se sarò un filino conservativo per il momento Ok muoviamoci lungo il fianco L'hanno spottato No Madonna l'ha fatto secco quella Oh dove diavolo sta Torna Mettiti sotto Sotto Mettiti sotto la montagna Sotto la montagna Sotto la montagna Mettiti sotto la montagna Fer non rinunvind Ok Secondo me adesso ti mirano forte No no Secondo me stanno su questo ponte Con Giuda Però qualcuno sa dove sono Eh si perchè se sta spottato sa dove sei Qualcuno sa dove sei Ah eccola la base Forse è lì che dobbiamo arrivare Ecco lo vedo lo vedo Aspetta eh L'ha visto Madonna è veramente fastidioso stare in questa posizione super elevata Vediamo salta tutto Allora Oh Ma chi cazzo Questo è qualcuno con l'artiglieria Ah io credo che ti debba affacciare lì qua Non l'ho visto Ah ora ce n'è uno lì là Dove? Sulla destra Ok ah si quello l'ho visto Non due due T'hanno visto T'hanno visto Preso No immobilizzato sospensione danneggiale Cinque Cinque Vai Vai Tornato creativo Non va Ok Fermo 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 Sei Ok ti ho riparato Vai avanti vai avanti Sta arrivando uno a tutta velocità Ah Veramente migliorato tanto Però sono curioso di andarmi Siamo scarsi Vabbè non ci abbiamo mai giocato Però Voglio darci dei consigli Noi il meglio che abbiamo fatto è regalarvi quel codice in basso Tutto Allora io ma sono molto curioso di andarmi a rivedere la recensione Per vedere quale fosse World of Tanks al tempo Perché magari si può ripetere la recensione Allora io Allora io Allora io Allora io